No, non era certamente questo il match da vincere in casa della capolista, però l'ennesima sconfitta di misura fa sprofondare il bitonto al terz'ultimo posto e intanto le giornate scorrono inesorabilmente. Mister Valeriano Loseto deve fare i conti con una rosa malconcia e incerottata e si affida alla consolidata cintura difensiva con Tangorra e Carullo laterali, Sillette e Gomez centrali a protezione di Petrarca. In plume la mediana con Mariana e Ungredda sciabolatori, Clemente tiratore di Fioretto. Davanti chiaradia rifinitore per Palazzo e Figliolia. L'ex spedatore del Napoli Emanuele Troise risponde con Colombo fra i pali, Mugnoz e Fissore a dirigere una diga insuperabile. Palma in cabina di regia assistito da Liperta e Puglisi. In attacco il tridente Gagliardi, Foggia, Banegas. Commuove non poco l'omaggio dei tifosi cavesi al piccolo grande Nico, l'angelo Pulcino Neroverde onorato pure da una maglia autografata dai calciatori biancazzurri. Capolista Spavalda, Pugliesi-Guardinghi. Al quarto d'ora il regista Clemente artiglia il cuoio e illumina per Palazzo che calcia in nuoco da lontano. Traversione di Maffei dalla sinistra. Banegas in zucca, la difesa bitontina si rifugia in angolo. 60 secondi e Mugnoz si invola sulla destra, scarico per Gagliardi che gira. Carullo, Provvido, scherma la sfera che Tangorre rinvia. Poco dopo la mezza, pallone che spiove nell'area neroverde, Tangorre sfiora, voler robusta di Gagliardi, salvifici i guantoni di Petrarca, proteso in tuffo. Insomma, reti in tonse all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa appaiono subito più aggressivi e al quarto passano. Parabola da corner di Aliperta, Banegas, Solingo in zucca letale. I lioncelli feriti provano a rugire. Piazzato di Clemente dalla tre quarti di sinistra, dodicesimo, stoccata dal vertice destro dell'area di rigore di Figliolia. Blocca Colombo. Aliperta ci prova al quarto d'ora, Petrarca inchioda il pallone sul prato. Minuto venti, punizione dai venti metri di Maffei, Colombo guizza e smanaccia via. Tiro dalla bandierina e colpo di testa fuori di un niente di Tangorre. Contropiede vertiginoso di Campani, ma il fuorigioco di Aliperta evita la seconda capitolazione ai Bitontini. In pieno recupero poi Tangorre, Muscatiello e Petrarca, fra scivolate, disperate, voli e stop sulla linea, sventano miracolosamente un altro periglioso contropiede con tanto di botta di Bubas. Insomma, non bastano fierezza e gagliardia ai nostri, mentre gli aquilotti sissano in cima al girone, proprio lì dove solo dodici mesi fa stavamo assisi noi.